Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica gli evelinesi potranno votare scegliendo il futuro sindaco tra Nello Pizza, sostenuto dal centro-sinistra, e Vincenzo Ciampi dal Movimento 5 Stelle. Il risultato del primo turno, che ha visto Pizza al 43% e Ciampi al 20%, insieme alle preferenze espresse per le liste, col 53% al centro-sinistra e il 14% al Movimento 5 Stelle, ha già definito la composizione del Consiglio Comunale. Il centro-sinistra sarà maggioranza, Pizza potrà contare da un minimo di 18 ad un massimo di 20 consiglieri su 32. Il Movimento 5 Stelle su 5 consiglieri in caso di vittoria e 4 in caso di sconfitta sui 12 seggi riservati alle minoranze, in virtù del fenomeno anatra-zoppa. Col successo di Ciampi, il centro-sinistra conserverebbe 18 seggi, le minoranze arriverebbero nel complesso a 14. A parte il rischio in governabilità o commissariamento, ecco i consiglieri, certi di una elezione, oltre ai candidati sindaci Pizza e Ciampi. Sono Petitto, Nargi, Ambrosone, Montanile, Laverde, Capone, Percopo, Iacovaci, Gianluca Festa, Maggio, Negrone, Nicola Giordano, Bilotta, Gaeta, Luongo, Pericolo, Verrengia, Aquino, Mingarelli, Laodonia, Morano, Iandolo, Damiano Genovese, Cipriano, Nicola Giordano, Leonardo Festa, Preziosi ed Arace. A seconda del successo di uno o dell'altro potrebbero ritrovarsi i consiglieri Frungillo, D'Aliasi, Sarno, Russo, Cardillo e Antonio Genovese. Domenica tuttavia si vota per scegliere il sindaco.